Indagini serrate sulle quali c'è il massimo riservo. Montoro è ancora sotto shock per l'attentato intimidatorio subito dal vicecomandante della stazione dei Carabinieri. È successo la notte tra sabato e domenica, intorno alle 4. L'auto, una Fiat Panda, era parcheggiata nei pressi della sua abitazione di Solofra ed è stata data alle fiamme. Non è la prima volta che il Carabiniere di Montoro subisce un'intimidazione. Qualche anno fa, dopo una brillante operazione da lui condotta che permise il sequestro di due tonnellate di marijuana, qualcuno gli incendiò l'auto. Molto operativo dunque nel contrasto dello spaccio di stupefacenti e non è mancata la solidarietà da parte del sindaco di Montoro, Girolamo Giacquinto. Sono episodi isolati a cui non bisogna dare ulteriore spazio, bisogna intervenire nel tempo più rapido possibile proprio per evidenziare l'eccezionalità e l'isolamento assoluto di fenomeni di tale portata. L'episodio si inquadra in un momento particolarmente difficile che sta vivendo la zona del Montorese e del Solofrano sotto il profilo della sicurezza con un'escalation di raid e di furti soprattutto nelle contrade isolate. Tra i primi provvedimenti come amministrazione comunale che abbiamo adottato è stato quello di un investimento importante con fondi comunali di 100.000 euro per avere una video sorveglianza attiva. Non penso però che questo sia l'elemento decisivo per determinare una difesa del nostro territorio a cui pur stiamo provvedendo.